La mascherina non è un grande sacrificio, teniamola qualche settimana in più in campagna, così siamo più tranquilli. Il governatore Vincenzo De Luca ha confermato che nella nostra regione sarà prolungato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto anche dopo l'11 febbraio. Avete fretta di farvi il carnevale? Invece no, superiamo almeno questo periodo di feste, San Valentino, Carnevale eccetera, ma ha detto il presidente della regione, sottolineando la necessità di essere prudenti. A livello nazionale, come annunciato al sottosegretario alla salute Andrea Costa, lo stop all'obbligo di mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale dovrebbe scattare senza distinzione di colore a partire dall'11 febbraio. Quindi, almeno per il mese di febbraio, continuiamo a mantenere le mascherine, manterremo l'obbligo in campagna, cerchiamo di arrivare alla fine dell'emergenza che è prevista in Italia, alla fine del mese di marzo, ha spiegato De Luca. Manteniamoci un po' più prudenti per una ragione che ho ripetuto mille volte, la Campania è la regione con la più alta densità abitativa d'Italia, quindi dobbiamo avere un po' di prudenza in più. De Luca ha poi rimarcato, abbiamo già fatto un miracolo per la gestione di questa ondata di epidemia, un miracolo perché abbiamo 15.000 dipendenti in meno nella sanità pubblica campana dopo i 10 anni di commissariamento, ma riconosce anche che i cittadini sono stati nel complesso responsabili. Dobbiamo completare, ha aggiunto, la vaccinazione per i bambini nella fascia 5-11 anni, ma sta andando bene. Ieri eravamo a 181.000 bambini vaccinati. Nonostante il disastro fatto dal Ministero della Pubblica Istruzione e il caos che ha determinato per le famiglie, i presidi e gli alunni guardiamo avanti, ci avviamo verso una nuova normalità.